Lei ha detto, chiudendo il tavolo di lavoro, sono stato molto sorpreso. Sorpreso da cosa? Sorpreso dalla freschezza di questi giovani, dalla loro schiettezza, dalla loro passione, dal desiderio di confronto, di dialogo, dal loro modo di intendere anche l'appartenenza alla Chiesa e dalla voglia di futuro. Qual è il tavolo tematico con il quale avete dialogato? Vocazione e lavoro. È interessante, siamo partiti dal lavoro, ma ad agio ad agio siamo arrivati al tema della vocazione, per cui si è anche compreso che il lavoro ha la sua importanza, ma va collocato dentro una visione più ampia della vita, questo l'hanno detto loro stessi. Mi ha molto colpito questo, come anche questo desiderio di rileggere la parola vocazione, che non è di uso corrente tra i nostri giovani, ma come tale. In realtà il senso e il significato è assolutamente presente. Loro si stanno interrogando su ciò che devono essere, ma come qualcuno diceva anche per chi devono essere.